Siamo con Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero, Vescovo di Vallo della Lucania, per i tradizionali auguri di Natale. Quindi è un momento sempre bello, importante per stare vicino anche attraverso la televisione alle famiglie. Sì, il Natale richiama la nostra attenzione ogni anno e tutto il mondo in qualche modo è catalizzato da questo evento. Nelle nostre famiglie è così, l'albero, il presepe ci ricordano un evento straordinario. Il Signore non si è più allontanato da noi, è presente in mezzo a noi. Il Papa ci ha voluto fare un regalo prima di Natale che è stata questa bellissima lettera che ci richiama l'importanza del presepe, proprio l'amore che nella famiglia si ha per il presepe. Il Papa veramente ha scritto una lettera straordinaria perché richiama la nostra attenzione su questo segno bello che ha attraversato i secoli, 1223, notte di Natale. San Francesco per la prima volta a Greccio decide di celebrare un Natale particolare, vuole rivivere quell'amore, quella sensazione che hanno avuto i pastori quando hanno accolto Gesù nella grotta Betlemme. E il Papa lo richiama nella lettera e ci invita a fare lo stesso passo, meglio a rinnovare quel passo. E questo scritto ci ricorda che il presepe non è qualche cosa che appartiene alla fanciullezza, al passato della vita di noi adulti, ma ci ricorda ogni volta che lo guardiamo con lo sguardo quanto il Signore ha fatto per noi, facendosi carne in una situazione di povertà, di emergenza. E come i personaggi del presepe, dice il Papa, racchiudono in fondo la vita di ciascuno di noi. E allora auguri di Buon Natale a nome anche di Cilento Channel a lei e speriamo anche che il 2020 con questo spirito del Natale da portare sempre nel cuore possa portare tante belle cose a tutti quanti noi, alla nostra Chiesa Diocesana e naturalmente alle famiglie. Quindi grazie. E l'augurio che rivolgo a tutti voi, possiate sentire sempre questa presenza che dà significato ad ogni nostro gesto di bontà, di amore. Lui che è venuto per amore e si è fatto povero, piccolo, aiuti i nostri cuori ad essere sempre pronti ad accogliere chi è più piccolo di noi, chi è più povero di noi, per veramente stringere sempre di più legami di vera e autentica fraternità per un mondo migliore.